Via l'attuale governance e quanto chiedono i lavoratori dell'ex Silva di Taranto che scioperano stanchi dicono delle condizioni di lavoro nello stabilimento siderurgico e nelle aziende dell'appalto. Si terranno nella Basilica Minore Santissimo Rosario di Francavilla Fontana i funerali di Paolo Stasi e il 19 venne ucciso mercoledì 9 novembre vicino alla sua abitazione da uno sconosciuto che gli ha sparato al petto. La procura di Brindisi dopo l'autopsia eseguita sabato ha rilasciato il nulla osta per le esecue. Il sindaco Antonello Denuzzo ha proclamato il lutto cittadino. È il giorno in cui si celebra la Virgo Fidelis patrona dei carabinieri data cara all'arma che unisce sentimento religioso storia e attenzione al sociale. La data è anche quella della battaglia combattuta in Abissinia tra italiani e britannici nella quale i nostri carabinieri si distinsero per valore. Celebrazioni in tutte le città capoluogo. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'informazione di Antenna Sud, Tg Interregionale dedicato alla Puglia e Basilicata. Partiamo dalla pagina dedicata all'ex Silva di Taranto. Oggi lo sciopero di tutti i lavoratori, i dipendenti, quelli in amministrazione straordinaria, anche quelli dell'appalto delle acciaierie d'Italia scioperano per chiedere. Venga mandata via l'attuale governance. Insoddisfatti e preoccupati per le attuali condizioni di lavoro e dunque in attesa di risposte. Mentre attendiamo di mandarvi le immagini di questo sciopero, di questa protesta, vi trasmettiamo intanto l'intervista all'Onorevole Maiorano proprio su questa vicenda. Sentite. L'avvertenza ex Silva di Taranto è sul tavolo della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'attenzione del Governo nazionale sarebbe massima a tutela dei diritti al lavoro e alla salute. E' quanto dichiara l'Onorevole Giovanni Maiorano proprio nelle ore in cui i lavoratori sono in presidio. Scioperano contro una gestione che, a loro dire, farebbe acqua da più parti. Una problematica molto importante. Fortunatamente abbiamo avuto subito un contatto con il Ministero, con il Ministro Urso, che ha convocato per due giorni successivi tutte le parti in causa. Quello che io ho chiesto in quell'occasione e che ribadisco è che mai come in questo periodo la provincia di Taranto ha la possibilità di esprimere, ha espresso diversi parlamentari schierati a 360 gradi, quindi presenti in ogni schieramento. Quello che chiedo è quello di fare fronte comune finalmente e poter poi risolvere queste problematiche, che è all'attenzione, ve lo posso garantire, del nostro Presidente del Consiglio. Maiorano chiede dunque fronte comune. Mentre le istituzioni vagliano possibili soluzioni, i sindacati continuano a chiedere che lo Stato prenda controllo e gestione degli impianti ed invitano Acciaierie d'Italia a ritirare il taglio di ordini e commesse all'indotto con 145 aziende interessate. E allora è pronto, vi trasmettiamo ora il racconto dettagliato di questa giornata di sciopero per l'ex Silva di Taranto. Guardate. Dopo circa un'ora e mezza di attesa dinanzi al municipio, l'incontro con il sindaco chiamato a unirsi alla battaglia. Così si è concluso in tarda mattinata il folto corteo di lavoratori Acciaierie d'Italia, diretti e indiretti, partiti dallo stabilimento. Il presidio dinanzi alle portinerie invece era partito prima dell'alba, intorno alle 5, in concomitanza con la mobilitazione. Uno sciopero di 24 ore indetto da USB, CGL, Cisle e Will con tutte le categorie metalmeccaniche, servizi, marittimi e trasporti. Dopo anni di incertezza questa potrebbe essere la mazzata finale, 145 ditte dell'appalto fatte fuori e di conseguenza oltre 2.000 famiglie. Serve far sentire la voce dei lavoratori e far capire al governo che deve intervenire subito. Cioè il governo si deve riprendere la ex Silva e deve ovviamente andare in maggioranza. Non si può continuare con una gestione scellerata che fa acqua da tutte le parti. Qui si continua con la cassa integrazione, non c'è nessun rilancio, la gente vuole tornare al lavoro, un lavoro pulito che deve essere rispettoso di salute e ambiente. Si ritiri quel provvedimento vergognoso unilaterale nei confronti delle aziende dell'appalto e dell'indotto. Creerebbe un grave precedente, o sbaglio? Esatto. Che cosa si spera in qualche modo di ottenere oltre che dai tavoli romani anche dalla governance di Acciaglieria d'Italia qui a Taranto? Sì, quanto è accaduto con le aziende dell'appalto è solo l'epilogo di una situazione che va avanti da troppo tempo. Arsenal Mitt ha dimostrato la sua totale inaffidabilità. Quindi noi l'unico modo che vediamo per dare un corso nuovo è nazionalizzare l'ex Silva. utilizzando i miliardi messi a disposizione dei decreti per una transizione ecologica. È una giornata fondamentale che dal mio punto di vista rappresenta un po' lo spartiacco rispetto a quello che sarà il futuro di decine di migliaia di famiglie tarantine. Abbiamo argomento, saranno celebrati nel pomeriggio i funerali di Paolo Stasi, il 19enne ucciso a Francavilla Fontana lo scorso 9 novembre. È ancora sconosciuto Novente e sconosciuto anche il killer nella città degli imperiali oggi. È lutto cittadino. Le bandiere a mezz'asta di Castello Imperiali per il lutto cittadino dichiarato dal sindaco Antonello Denuzzo hanno anticipato l'arrivo della Salma in Basilica Minore dove oggi pomeriggio alle 16 saranno celebrati i funerali di Paolo Stasi, il 19enne di Francavilla Fontana, ucciso il 9 novembre in via Occhi Bianchi sull'uscio della sua abitazione. Sconosciuto il Movente è sconosciuta l'identità del killer armato di pistola capace di esplodere due colpi mortali. Certo invece il dolore della famiglia e lo sgomento della comunità. Oggi per Francavilla Fontana è il giorno del dolore. Il ferretro bianco è arrivato in chiesa dopo mezzogiorno sull'attenti una pattuglia della polizia locale chiusi nel loro dolore i genitori e la sorella di Paolo. L'ultimo saluto a Paolo Stasi dopo la riconsegna della Salma alla famiglia disposta in mattinata dal pubblico ministero Giuseppe De Nozza. Oggi pomeriggio alle 16 tutti stretti attorno al dolore della famiglia Stasi, a Papa Giuseppe, a Mamma Nunzia, alla sorella Vanessa, ai parenti e agli amici, a chiunque a distanza di quasi due settimane vuole e pretende giustizia, vuole la verità, vuole conoscere il nome dell'assassino di Paolo. È accusato di omicidio ed è stato portato in carcere il 31enne titolare di un bar abitrito nel Barese che avrebbe avuto uno scontro fisico con un 27enne poi trovato morto davanti al suo locale secondo quanto ricostruito dagli investigatori. Il 27enne in stato di alterazione psicofisica avrebbe provato a entrare nel bar ma sarebbe stato respinto dal titolare che, come riferiscono i carabinieri, avrebbe poi allontanato, immobilizzato il 27enne, deceduto poco dopo. Sentite. È accusato di omicidio doloso ed è stato condotto in carcere il 31enne titolare di un bar abitrito in provincia di Bari che, secondo gli inquirenti, avrebbe avuto un violento scontro fisico con il 27enne trovato poi privo di vita dinanzi al suo locale. I fatti si sarebbero verificati alle prime luci dell'alba di domenica 20 novembre a abitrito in via Pietragallo ed immediate sono scattate le indagini per ricostruire la vicenda. Secondo gli investigatori, la vittima in censurata, residente nel quartiere Loseto di Bari e padre di una bambina di due anni, sarebbe prima entrata in un bar di abitrito per poi tentare l'accesso in una seconda attività commerciale poco distante. Ed è proprio qui che sarebbe avvenuto lo scontro fisico col 31enne titolare dell'attività, il quale avrebbe, secondo quanto riferito dai carabinieri, respinto, allontanato ed immobilizzato il 27enne deceduto poco dopo. Alle ore 9 circa di questa mattinata è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 83 anni che era stato dichiarato disperso nella giornata di ieri. Il malcapitato e la sua vettura sono stati individuati in una zona scoscieta sotto via Belvedere vicino all'abitato di Palazzo San Gervasio. Ci troviamo in Basilicata, in provincia di Potenza. I vigili del fuoco sono intervenuti con i droni per la ricerca dall'alto, personale del nucleo cinofili, personale addetto alla topografia applicata al soccorso e personale per la ricerca da terra per un totale di 25 unità. Se siamo in grado trasmettiamo anche le immagini di quanto vi sto raccontando. Sul posto carabinieri e protezione civile del comune di Palazzo San Gervasio. Dunque grande mobilitazione di forze e poi purtroppo la tragica scoperta. È stato trovato senza vita il corpo di questo 83enne. Continuiamo sempre con la pagina dedicata alla cronaca. Ci spostiamo in Puglia, andiamo nel Foggiano per un presunto giro di corruzione. Soldi per far entrare i figli all'aeroporto militare di Amendola, proprio nel Foggiano. 15 sono in tutto gli indagati nell'ambito di un'inchiesta per corruzione condotta dalla Procura del Capologo Dauno. È in corso un vero e proprio terremoto giudiziario sulla base militare di Amendola nel Foggiano. Avrebbero pagato decine di migliaia di euro per far entrare i propri figli in aeronautica. E quanto emerge da un'inchiesta della Procura del Capologo Dauno, sfociata in diverse perquisizioni eseguite dai carabinieri. Sono in tutto 15 le persone indagate, tra militari e genitori dei ragazzi, 12 capi di imputazione e 7 perquisizioni effettuate sia nella base militare che all'interno di abitazioni private. I militari avrebbero accertato 11 episodi di corruzione e un tentativo di estorsione, contestato a un sotto ufficiale in servizio da Amendola che avrebbe preteso 40.000 euro per non far escludere un candidato al concorso per marescialli dell'aeronautica militare. Al centro dell'inchiesta la figura di due sotto ufficiali che avrebbero fatto da intermediari per il superamento dei concorsi per volontari in ferma prefissata di un anno e quattro anni. In entrambi i casi gli esami si sarebbero svolti a Roma. Bocche cucite da parte degli inquirenti, Procura di Foggia e Carabinieri, considerata la delicatezza della vicenda. Intanto l'aeronautica militare fa sapere che pur non entrando nel merito dello specifico ambito di indagine della Polizia Giudiziaria sui fatti rappresentati esprime piena fiducia nella magistratura e massima collaborazione agli organi inquirenti per fare piena luce sulle eventuali irresponsabilità individuali di appartenenti alle istituzioni, infatti che contrastano con l'impegno quotidiano dell'aeronautica militare al servizio del Paese a difesa del merito della legalità e della sicurezza collettiva. Tanti disagi, anche danni a causa del maltempo che si è abbattuto nelle scorse ore su tutta la Puglia. L'episodio più grave è quello che si è verificato nelle scese dove una tromba d'aria, in particolare a Gallipoli, manda in frantumi una vetrata durante un pranzo di famiglia, resta ferita una bimba di 4 anni. Si trova ricoverata nel locale nosocomio a causa proprio dei danni procurati all'interno, in particolare di un'abitazione a Nardò. Queste le conseguenze del maltempo è successo ieri intorno alle 14. e fortunatamente però niente di molto grave e non ci sono state altre conseguenze. Tanta paura sicuramente. Parliamo invece adesso dell'importanza del verde con un appuntamento in particolare dedicato da Coldiretti proprio alla piantumazione di nuovi alberi. Bisogna accarezzare le foglie. Ti piace anche fare che cosa con gli alberi? Proteggerlo. Diffondere una cultura del verde, l'importanza di salvaguardare gli alberi e la natura, far conoscere le culture locali ai più piccoli. Con questa finalità, tra le diverse iniziative organizzate a Lecce e provincia in occasione della giornata nazionale degli alberi, alcune rappresentanti di Coldiretti hanno tenuto una lezione di educazione ambientale all'Istituto Comprensivo Stomeo Zimbalo, piantumando e facendo toccare con mano alberi e piante fiorite ai bambini. Il messaggio importante che vorrei lasciare è quello proprio di rispettare la natura e farsi comunque di incrementarla di giorno in giorno, in quanto è molto importante al giorno d'oggi. I bambini sono tanto sensibili. Il nostro curriculum è proprio improntato sulla sostenibilità ambientale, sulla cura di ciò che è intorno ai ragazzi. E oggi è il giorno in cui si celebra la Virgo Fidelis, patrona dei carabinieri, data cara all'arma che unisce sentimento religioso, storia e attenzione al sociale. La data è anche quella della famosa battaglia in Abissinia tra italiani e britannici, nella quale i nostri carabinieri si distinsero per valore. E si sono svolte celebrazioni in tutte le città capoluogo. Andiamo a vedere quella di Brindisi. Un momento di ricordo, raccoglimento e preghiera per l'arma dei carabinieri che a Brindisi celebra la Virgo Fidelis, che come ogni anno si unisce alla giornata dell'orfano. La fedeltà della Vergine Maria, ricordata dall'arcivescovo Domenico Caliandro e dal comandante provinciale, il colonnello Leonardo Acquaro, simbolo del motto dell'arma, nei secoli fedeli. Come ogni anno festeggiamo la nostra patrona, la Virgo Fidelis, assieme ad altri due momenti importanti, altri due eventi importanti, ovvero festeggiamo, oggi celebriamo anche l'ottantunesimo anniversario della battaglia di Culqualber e la giornata dell'orfano. Sono qui presenti tutti i presidi, tutti i comandi dell'arma dei carabinieri nella provincia di Brindisi. Ricordiamo quattro comandi di compagnia, 23 comandi di stazioni presenti in tutti i territori, in tutti i comuni della provincia Brindisina. È un momento quindi per raccoglierci e, come dire, tutti insieme ricordare la nostra patrona. Un'occasione di ritrovo delle massime cariche istituzionali per confermare lo spirito di unità nella difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini e dello Stato. Affermiamo la grande famiglia dello Stato, la sua compattezza, la sua unione, insieme anche agli antilocali ed è quindi un momento certo di festeggiamento della patrona dell'arma, ma anche di grande coesione fra di noi. E sempre relativamente alle celebrazioni in onore della Santa Patrona dei carabinieri, le abbiamo seguite anche a Bari, si sono svolte all'interno della Basilica di San Nicola. La Maria Virgo Fidelis è l'ottantunesimo anniversario della battaglia di Kulqualber e la giornata dell'Orfano. Tre occasioni per tornare a celebrare in una sola data, quella del 21 novembre, l'arma dei carabinieri. In particolare, quest'anno, oltre ai festeggiamenti per la Santa Patrona, si rievoca l'ottantunesimo anniversario di quella battaglia che rappresenta uno dei combattimenti più cruenti avvenuti in Africa durante il secondo conflitto mondiale. Si celebra inoltre la giornata dell'Orfano, che istituita nel 1996 rappresenta un momento di vicinanza alle famiglie dei militari scomparsi. La cerimonia liturgica, ufficiata da Monsignor Giuseppe Satriano nella Basilica di San Nicola, ha visto la partecipazione del coro di 30 componenti e dell'orchestra di 50 musicisti dell'Istituto Scolastico a Medio d'Aosta di Bari. Dopo averla fatta in forme più ridotte, questa celebrazione, perché abbiamo continuato a farla in maniera ridotta negli anni scorsi, quest'anno torniamo finalmente a farla apertamente, senza mascherina, voglio dire, e quindi è un piacere anche questo ed è un momento di gioia anche questo. È la giornata in cui ringraziamo ovviamente la Vergine Maria ma anche e soprattutto l'Arma dei Carabinieri, che è un po' come la Madonna, protegge questo Paese e ci offre quel servizio umano, puntuale, professionale, che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, la legalità e la sicurezza. E questi ragazzi e queste ragazze dell'Arma dei Carabinieri oggi vengono veramente affidati alla protezione della Madonna con una cerimonia che è sempre molto emozionante. Ci stiamo occupando di un'altra questione. Nel Brindisino, strade sporche e rotte con grandi disagi. Ci sono i genitori dei ragazzi in rivolta. Siamo in via Giovanni XXIII a Brindisi presso l'ingresso della scuola primaria dell'infanzia per asso dove siamo stati contattati da alcuni genitori per segnalarci una problematica di sicurezza e pulizia della strada. Infatti i piccoli alunni tutte le mattine devono effettuare un vero e proprio slalom per poter entrare a scuola. Per evitare le buche e il pavimento reso disconnesso dalle radici degli alberi e la presenza di escrementi canini che spesso vengono calpestati e portati all'interno della scuola. Un tema segnalato da diverso tempo che i genitori esasperati chiedono di risolvere. Come puoi vedere c'è tutta la strada che a causa probabilmente dei pini è completamente dissestata e in particolare marciapiede per arrivare la mattina a scuola con i bambini è praticamente da praticare lo slalom perché è impossibile. A parte le mattonelle che ormai sono divelte poi abbiamo un altro problema sporcizia come carte che ci sono cartoni che vengono lasciati a terra e spesso e volentieri troviamo invece delle defezioni canine che è proprio davanti all'ingresso e agli accessi alla scuola. Ora, non so se una soluzione può essere semplicemente quella di riparare marciapiede però sicuramente forse delle telecamere o comunque un sistema di videosorveglianza per evitare che continuino queste persone che comunque questi proprietari di animali che non rispettano alcuna regola probabilmente potrebbe essere un deterrente. Io è da otto anni che frequento questa scuola quindi non è una cosa di ieri o di oggi è da tanto tempo che abbiamo questa problematica sperando che adesso magari si possa muovere qualcosa e riusciamo a risolvere la situazione. La stazione ferroviaria di Barletta vedrà presto la partenza di un cantiere in particolare a partire da gennaio prossimo la regione Puglia ha affidato a ferro-tranviaria le operazioni di ristrutturazione sul lato di via Vittorio Veneto con miglioramenti che interesseranno i binari della Bari-Barletta i sottopassi pedonali e il fabbricato d'accesso della ferrovia regionale. Partiranno a gennaio 2023 i lavori per la realizzazione del secondo fronte della stazione di Barletta in corrispondenza di via Vittorio Veneto con prolungamento del sottopasso pedonale e modifica dei binari della ferrovia regionale che collega il capoluogo della BAT alla stazione di Bari. A finanziare le operazioni i fondi europei 2014-2020 ai quali la regione Puglia ha avuto accesso 200.000 euro sono già stati utilizzati da ferro-tranviaria soggetto attuatore incaricato dalla regione per acquisire da rete ferroviaria italiana le aree interessate dall'imminente cantierizzazione la realizzazione di un nuovo fabbricato di stazione si aggiungerà alle operazioni legate al sottopasso ai binari con un potenziamento della struttura che interesserà via Vittorio Veneto ma della quale beneficerà anche Piazza Francesco Conte Duca su cui insiste l'ingresso della stazione centrale oltre all'ammodernamento dello snodo ferroviario i lavori permetteranno di ricongiungere in maniera più dinamica i due lati della città quello del centro cittadino e il tratto che connette il quartiere Patalini alla zona Barberini in quest'ambito inoltre si inseriscono le migliorie da apportare ai sottopassi di Viale Marconi e Via Torino ad esporre l'iter burocratico e operativo del cantiere sarà il consigliere regionale Filippo Caracciolo che martedì mattina rendi conterà il tutto per conto della regione Puglia l'Università del Salento organizza una mostra speciale contro la violenza di genere ha preso il via protagoniste il novembre di Unisalento contro la violenza attraverso il teatro cinema, fotografia documentari e racconti storici l'Ateneo Salentino affronta questo delicato tema con l'intento di denunciare la violenza secondaria che deriva da campagne informative esclusivamente centrate sulla figura della vittima e mette invece al centro le donne come protagoniste nella vita privata e in quella pubblica riflettere sulla violenza di genere contrastare la violenza di genere ma anche e soprattutto celebrare la forza delle donne la forza di reazione la determinazione a contrasto della violenza la determinazione a difendere se stesse e la propria libertà e la propria integrità questo è il messaggio globale e il comune denominatore di tutte queste iniziative diverse le iniziative in programma fino al 6 dicembre consultabili sul sito di Unisalento tra cui la mostra Spazi Vissuti Spazi Conquistati di Pieranzato che documenta la capacità di resistenza disposta e rivolta delle donne di tutto il mondo con fotografie realizzate durante manifestazioni per i diritti ma anche momenti di lavoro e vita quotidiana ci sono donne con il loro protagonismo con la loro presenza attiva con l'idea sempre di tenere stretti i diritti conquistati perché spesso vengono poi ripestati perciò tenere alta la guardia identificarci con chi ci dà ci dà forza e coraggio e dagli spazi La società ginnastica Angiulli di Bari e la Susan Coman di Puglia promuovono un corretto stile di vita con un corso di ginnastica dolce tutto al femminile Un corso di ginnastica dolce dedicato al sostegno delle donne impegnate nella lotta i tumori al seno con l'idea di tenere alta l'attenzione sul tema della salute femminile oltre che promuovere in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme sulla base del binomio sport e prevenzione è nato il progetto tra Susan G. Coman Puglia e la società ginnastica Angiulli collezioni settimanali di ginnastica tenute dai tecnici della polisportiva del capoluogo proponendo un allenamento al femminile ma anche uno sguardo più ampio su altri aspetti della vita ricerca di sani stili di vita attenzione alla salute fisica e psicofisica Questo progetto mensana l'abbiamo denominato mensana in corpore sano è nato proprio dall'atto di generosità e di sensibilità del presidente in Gravallo ma un po' di tutti coloro i quali partecipano attivamente proprio concretamente tecnicamente al progetto è qualcosa che davvero ci riempie il cuore perché si continua a parlare di prevenzione Diamo questo corso gratuito a queste donne che hanno passato un brutto periodo della loro vita e siamo molto molto felici e onorati di essere partner dell'associazione in questo percorso Abbiamo intenzione ovviamente di continuare ma noi siamo sempre impegnati anche nella solidarietà oltre che nello sport sia di avviamento che di agonismo per tutti i ragazzi noi siamo sempre disponibili e impegnati in questo in questo campo A Foggia nasce una nuova associazione si chiama Divento scopriamola Abbiamo deciso di chiamare questa associazione Divento perché per noi ha due significati molto importanti il primo è appunto cercare di smuovere quest'aria stagnante che in questa città nella città di Foggia da troppo tempo respiriamo un'aria fatta di rassegnazione fatta di disinteresse e fatta anche di una città che come dire si sgretola quindi crediamo che sia il momento insomma di alzare il vento ma crediamo anche che il vento sia un qualcosa che è invisibile impalpabile eppure soffia A Foggia si alza il vento e nasce una nuova realtà associativa fondata sulla partecipazione politica e sulla cittadinanza attiva si è svolta nelle scorse ore l'evento di presentazione alla città di Divento presso l'auditorium della biblioteca Magna Capitana e la presenza tra gli altri di Roberta Brahi Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati della professoressa Irene Sasso della Fondazione Montiuniti di Foggia e del sindaco del comune di Bacoli Giosi Gerardo della Regione Di vento perché vogliamo essere come il vento soffiare liberi ed inesorabili sulla città infilarci in tutti gli spazi prendendone la forma afferma il presidente della neoassociazione il professor Luciano Beneduce Quindi come associazione non vogliamo porci come protagonisti ma vogliamo semplicemente accompagnare aiutare questa città a riscoprire il gusto della partecipazione il divertimento anche che si può provare nel curare i beni pubblici la cosa pubblica e quindi soprattutto per i ragazzi per i più giovani crediamo sia veramente un momento importante questo nel quale vogliamo in qualche modo spingerli ecco come il vento a impegnarsi per questa città L'altro tema è divenire diventare quindi divento è una come dire una presa d'atto noi nel fare questa associazione ci siamo in qualche modo messi in crisi ed è una crisi positiva quindi perché crediamo che per cambiare questa città dobbiamo innanzitutto cambiare noi stessi ci fermiamo ora per una breve pausa tra poco torniamo con la pagina di approfondimento dedicata alle notizie della provincia di Bari Labatt e Foggia restate con noi rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social grazie a tutti